Seconda giornata in chiaro scuro per la nostra eccellenza. Le luci arrivano dalle stesse squadre che bene avevano figurato nel primo turno e idem le ombre. La Louisiana sorprese prima in classifica grazie alla perla di rotta che a metà secondo tempo beffa così il Bobarno per il decisivo 1-0. Vince questa volta anche l'Ofanenghese che fatica nel primo tempo col Codogno. Alla squadra di Curti vengono annullati due gol per un presunto fallo su un difensore e per un'azione confusa da fermo. Poi si scatena l'Ofanenghese. Rete di Proch in avvio di ripresa, sempre su azione da fermo. Franzese non ci stai, Alberto Lotti di Crema trova il pareggio alla metà della frazione. L'Ofanenghese vuole vincere a tutti i costi e nel finale preme. Il nuovo entrato Straolzini è elettrico e complice a una deviazione fa 2-1. Nel finale in contropiede, orchestrato sempre da Straolzini, arriva pure il Trisse rifinito da un altro ingresso dalla panchina di Cesare. Passiamo ora alle note dolenti. La son cinese si inchina all'ospitaletto per i troppi errori difensivi. Apre Facundo Graziano di testa, neo acquisto locale, pareggia con un gran diagonale, un altro sudamericano, Verón. Tutto nei primi dieci minuti. Gara molto bella, macchiata però dall'errore in uscita di Piras che subisce il recupero di Miglio, abile a mandare in gol Forlani. Chiude nella ripresa Galelli, ex Serie D, in questo modo per il 3-1 finale. A zero punti troviamo anche la Soresinese che paga Dazio al Cazzago Bornato, ma dopo una traversa colpita da Trovadini, sono il rosso-blu di casa a passare il gol di Ladili. È una vera gemma, oltre ad essere il primo in eccellenza per il rosso-blu. Peccato duri poco, siamo al 38esimo e un minuto dopo Venturi pareggia. Prima di fine tempo, un'altra grande azione personale, sempre di Venturi, cannoniere del girone con tre reti in due gare. Vale il sorpasso nella ripresa. Trovadini spizza da corner e fa 1-3. Poi al settantesimo Bizamble avrebbe la palla per riaprire tutto, ma dal dischetto colpisce la traversa.